Molte volte fanno carte false per riuscire a barcare quella soia rossa della casa del grande fratello Vipro VII, invece in altre occasioni, come in questo caso, c'è gente che vuole andare via. Almeno questo è quanto è emerso in queste ore in seguito ad alcune sue affermazioni nella casa. A riportare questa notizia sono stati diversi utenti del social network Twitter, i quali stavano sicuramente seguendo con attenzione la diretta, quella che fanno 24 ore su 24, quando avrebbero sentito queste parole inequivocabili, e a quanto pare la maggior parte delle persone non sarebbe nemmeno tanto triste per questo eventuale abbandono. Il grande fratello sappiamo che è iniziato da pochissimi giorni, ma è già successo di tutto con polemiche, diffide, e adesso salta fuori questo concorrente che potrebbe essere in procinto di dire addio al programma. Per il conduttore Alfonso Signorini si tratterebbe della prima importante perdita, anche se ovviamente potrebbe anche essere stato un semplice sfogo, dal momento che rientrerà prima della prossima puntata in diretta, lunedì 26. Si sa che Alfonso Signorini cercherà di far chiarezza sulla situazione, per cercare poi di conseguenza di non far andare via la persona. Vedremo se ci riuscirà comunque. Questa vippona è stata messa nel mirino dalla fidanzata di Luca Salatino, Soraya, mentre lei è stata protagonista di una critica nei riguardi di Ginevra Lamborghini. Adesso la concorrente sarebbe prossima ad abbandonare la casa, almeno stando a quanto scritto dal pubblico del programma su Twitter. La geffina comunque non è entrata nel cuore degli italiani, o almeno non ancora, e tenuto conto che i commenti postati sul web non fanno riferimento ad alcun dispiacere se dovesse poi concretizzarsi questa possibilità che lei vada via. Chi potrebbe lasciare, quindi, il grande fratello? Alcuni dei tweet apparsi nelle scorse ore dicono Ma perché Sara vuole abbandonare? Sara che vuole abbandonare perché forse si è resa conto della figura di mer... che sta facendo e non vuole finire in puntata lunedì sera? Tutti a scrivere così, tutti a scrivere così. C'è però un mistero sulle cause vere di questa insoddisfazione personale. Su questo magari spunterà fuori qualcos'altro. Intanto, da dritto e rovescio, passando per zona bianca e i lunatici, fino ad Agora, poveriggio 5 e mattino 5, Sara Manfuso ricordiamo che è stata spesso ospite di questi programmi per discutere, parlare di attualità, parlare di politica, di cronaca, di tutto quello che succede. Quindi non soltanto TV, l'opinionista scrive anche per i quotidiani il giornale e la notizia ed è presidente dell'associazione Io Così, che è impegnata nelle difese dei diritti delle donne che si sono trovate a vivere con lei delle violenze, violenze brutte ovviamente. Questo è tutto per quanto riguarda questa news. Vi ringrazio per l'ascolto. Alla prossima, come sempre.